Proseguono i nostri incontri con Giovanni Matera, lui è un imprenditore, titolare di Matera Arrendamenti, ma è un esperto di marketing, autore di numerose pubblicazioni, di creatore, ideatore di vari corsi formativi e stiamo un po' analizzando i suoi spunti, le sue idee, le abbiamo tratte dai suoi incontri, dai suoi corsi di formazione, dalle pubblicazioni in primis la cassetta degli attrezzi e oggi mi interessa questo trittico, questo iter potremmo dire, idee, azioni, risultati, siamo quello che pensiamo, siamo il risultato delle nostre azioni, le nostre azioni derivano dalle idee, se quello che siamo oggi non ci soddisfa è evidente che bisogna lavorare sulle idee, quindi c'è un principio formatore, l'idea, l'azione, i risultati, non prendiamocela con la sorte, magari ci saranno anche gli eventi così imprevisti e imprevedibili, però responsabilizziamoci. Sì, è dovuto dai nostri atteggiamenti, dal nostro modo di fare, dal nostro modo di porci, quindi i nostri risultati sono in funzione delle azioni che noi facciamo, le azioni derivano dalle idee ed è evidente che bisogna lavorare sulle idee. Facciamo un esempio, andiamo su degli esempi così ci capiamo meglio, ci sono molti giovani che fanno fatica a partecipare ai corsi formativi, giovani e meno giovani, ma anche di età artigiani e professionisti di un certo livello, i professionisti sbagliano ancora di più degli altri, avendo una laurea in tasca loro addirittura snobbano, io posso capire l'artigiano che magari non ha quel tipo di cultura, ma andare a snobbare per la formazione questo è molto grave, perché? Perché loro non… ecco, quel tipo di azioni non lo porterà da nessuna parte, io magari spezzo anche una lancia a favore di queste persone, il fatto che non partecipano ai corsi formativi è perché non c'è stato quell'aggancio, io non riesco a capire che quel corso formativo, quelle informazioni, leggere un libro, partecipare a un convegno, possa aiutarmi a dare quella conoscenza giusta per farmi migliorare come azienda, come impreditori e anche se non aumentare anche pure i fatturati, che non dispiace, quindi loro non riescono ad agganciare questo fattore, non lo agganciano alla formazione, loro ritengono ancora come alla formazione un'aria fritta e quindi fanno fatica ad avvicinarsi e questo è il motivo, io sono sicuro che non lo fanno apposta, perché chi è che non vuole crescere, chi è che non vuole far crescere la propria azienda, i propri collaboratori, chi è che non vuole crescere i fatturati, io penso che sarebbe il loro desiderio, però il loro retaggio culturale, la loro cultura, il loro modo di pensare… Permettere di dire sotto cultura a questo punto. Sotto cultura, io non voglio manco offendere nessuno perché sono pure persone che hanno una laurea in tasca molte volte, ma ripeto, un concetto che ripeto spesso, purtroppo qua la scuola non ci aiuta perché all'interno della scuola manca insegnare la cultura imprenditoriale, non è detto che tutti dobbiamo andare a fare gli imprenditori, perché magari io quando ho detto di inserire all'interno della scuola un'ora di formazione imprenditoriale, bastava pure un'ora la settimana, bastava instillare queste idee imprenditoriali, poi non è detto che tutti dobbiamo andare a fare gli imprenditori, però quello studio dell'imprenditoria fa crescere il ragazzo all'intrapendenza, all'indipendenza, fa crescere il concetto del diritto all'errore, fa crescere quel concetto del rischio, che anche se poi va a fare il dipendente comunque avrà una marcia in più in quella azienda. Grazie. Grazie.